Ora noi abbiamo una grossa parte della nostra puntata dedicata a quello che l'agenda Monti lascia di non fatto, quello che ha fatto bene o male, abbiamo un ministro importante di questo governo, però secondo lei quando si dice la reazione dei mercati, la reazione è dal fatto che se ne va Monti o che c'è la possibilità che torni Berlusconi? Ma basta vedere le dichiarazioni oggi del Partito Popolare Europeo, partito a cui appartiene anche il PTL, un inizio molto critico, io ero stato due anni a Bruxelles, devo dire era molto imbarazzante, perché loro dicevano, mi identificavano e ci identificavano con Berlusconi, quindi uno doveva dire, era un po' imbarazzante, quindi l'immagine a Bruxelles, Berlusconi, Italia era molto forte, quindi questo fatto ha prodotto un danno secondo me gravissimo al nostro paese. E cos'è nel profondo, dal suo punto di vista, ora lo confronteremo con quello di un esponente del partito di Silvio Berlusconi, ma cos'è nel profondo che danneggia l'immagine dell'Italia di Silvio Berlusconi al suo punto di vista? Ma l'aspetto peggiore è stata le vicende prima giudiziarie e poi insomma quelle dal giudiziario sono diventate anche apologia psichiatrica. No, però Spino, se ne menzio il distante, era imbarazzante, sicuro, era imbarazzante per dove erano usare, e gli italiani erano più felici, ed era imbarazzante per chi ha sempre apprezzato Berlusconi, arrivavi là e dovevi dimostrare...